Riproduciamo di seguito l'audio articolo di Ascolta la notizia intitolato, Amministrative. Meloni. Salvini ha visione un po' strabica. Sulle amministrative, Salvini ha una visione. Una lettura. Un po' miope? No. Diciamo un po' strabica. Così Giorgia Meloni ospite di Porta a Porta. A Parma andiamo da soli. Ma la Lega a Messina, va con il candidato di De Luca. Ci sono casi che non siamo riusciti a risolvere. Ma che si scarichi sempre la colpa su Fratelli d'Italia non lo accetto perché abbiamo lavorato più di tutti per l'unità della coalizione. Ha spiegato. FDI cresce perché è all'opposizione? Mi permetto di dissentire. Ha replicato la leader di Fratelli d'Italia. Aggiungendo. Quando Fratelli d'Italia fu l'unico partito a non appoggiare il governo Draghi. Ci si disse che saremmo scomparsi. Si disse che era una scelta suicida. Oggi si dice il contrario. Qual è la scelta giusta? Secondo me. Non paga l'opposizione. Ma il fatto che Fratelli d'Italia è un partito che se dice una cosa. La fa. C'è una affidabilità che ci sta premiando.